Musica Ben trovati con l'informazione di Termoli TV in primo piano oggi la cronaca blitz della capitaneria alle tremiti 22 indagati per ormeggi illegali ed in nero. Vediamo il servizio di Ana De Gregorio. Sottoposti a sequestro alle tremiti oltre 100 gavitelli per ormeggi abusivi posizionati su due specchi d'acqua per una superficie di circa 57.000 metri quadri e con 22 persone indagate. Le indagini della capitaneria di Porto durati circa due anni sono state coordinate dal PM Laura Guidotti della Procura della Repubblica di Foggia. L'attività investigativa ha portato non solo ad identificare gli autori dei reati ma ha portato alla luce anche il fenomeno dell'affitto in nero dei gavitelli per ormeggi abusivi a danno dei diportisti frequentatori dell'isola. Il jeep di Foggia ha disposto il sequestro penale dei gavitelli galleggianti e corpi morti posizionati nello specchio acqueo tra l'isola di San Nicola e lo scoglio del Cretaccio e quello di fronte alla cala delle arene nell'isola di San Domino perché in assenza di autorizzazione. Terrore in mare in balia delle onde e del vento due diportisti tedeschi salvati dalla guardia costiera. Vediamo. Erano spaventati in balia delle onde soccorsi dalla guardia costiera di Termoli due diportisti di nazionalità tedesca che durante il viaggio verso il porto di Venezia hanno avuto una varia a bordo a largo del porto di Termoli. Rapida la segnalazione sulla presenza dei due diportisti a bordo di un'imbarcazione a vela di circa 13 metri alla deriva per difficoltà di manovra accentuata dalle forti raffiche di vento che hanno interessato la costa termolese nella serata. Immediatamente il comandante della capitaneria di porto di Termoli Claudio Manganiello ha disposto l'invio in zona della dipendente motovedetta SAR 821 e di una pattuglia via terra che ha prestato assistenza di portisti una volta che questi ultimi hanno raggiunto la banchina del porto di Termoli. Il personale della motovedetta giunto in zona ha affiancato l'imbarcazione e coadiuvati di portisti nella manovra del mezzo in panne, scortandolo fino all'ormeggio. I naufraghi impauriti ma in buone condizioni di salute sono giunti in banchina alle 21.30. Sono partiti gli interrogatori per fare luce sull'arresto di un padre di 39 anni accusato di abusi sessuali sui figli. E proprio due di loro ieri mattina hanno parlato per circa tre ore davanti al giudice Maria Paola Vezzi in presenza del loro tutore e l'avvocato Marcello Benevento, nominato dal presidente del Tribunale di Larino. Questo incidente probatorio sarà utile agli inquirenti. La più piccola e il ragazzino hanno risposto alle domande del giudice mentre la madre non era presente durante l'interrogatorio. Escalation di casi tumorali via il fumo anche dalle aree verdi. Ecco la richiesta della Lilt, ma vediamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. In Italia le morti collegate al fumo arrivano ad 83.000 in un solo anno e la dipendenza dal fumo è causa certa di circa 30 malattie e diverse forme tumorali. La Lilt in 90 anni di attività ha sempre promosso la lotta al tabagismo. L'ultima iniziativa presentata durante una conferenza a Termoli è volta a proteggere la salute di tutti i cittadini e salvaguardare il territorio. Si tratta di liberare dal fumo i parchi e le aree verdi delle nostre città. Un progetto indirizzato ai comuni, alle istituzioni nazionali e locali, direttamente a sindaci e amministratori, ai presidenti dei parchi nazionali e regionali, affinché venga esteso il divieto di fumo alle aree verdi. In conferenza stampa due esponenti illustri della Lilt provinciale, il presidente Giovanni Fabrizio e il suo vice Carmela, Franchella. Il vertice della provincia, Rosario De Matteis, il consigliere comunale di Campobasso Colitti e Paolitto, funzionario della regione. Come evidenziato dalla stessa Franchella, l'età della prima sigaretta si abbassa sempre di più. Almeno una volta a settimana in Molise fumano 28 ragazzi su 100 con età inferiore ai 15 anni e addirittura sempre della stessa età 11 ragazzi su 100 lo fanno quotidianamente. Il Molise in questo guida la classifica negativa. La nostra associazione a livello nazionale ha fatto una proposta che tramite le varie sezioni provinciali è stata girata a tutti i comuni, quella cioè di estendere il divieto del fumo anche nelle aree verdi, oltre che all'interno di un locale chiuso, ma anche nelle aree verdi, soprattutto in quelle aree, parchi o giardini pubblici, dove soggiornano i bambini e le persone anziane. Nello specifico noi abbiamo invitato tutti i comuni del circondario con una lettera, invitandoli ad adottare un provvedimento in questo senso, un'ordinanza comunale in questo senso. Nello specifico il comune di Campobasso l'ha già fatto. Campobasso a quanto pare ha anticipato tutti e sarebbe già pronta, come ci dice il consigliere comunale Colitti, l'ordinanza per liberare i parchi dal fumo. Noi avevamo fatto questa iniziativa che ho proposto in sede di commissione sanitaria che presiedo all'interno del comune di Campobasso, avevo proposto già in maniera così insomma al sindaco per vedere cosa lui ne pensasse, tra l'altro il sindaco è un grande fumatore, è stato pienamente d'accordo su questa iniziativa, l'ho portata anche in commissione dove è stata approvata all'unanimità, e quindi adesso noi aspettiamo che il sindaco a giorni dovrebbe emanare questa ordinanza che vieterà il fumo nei parchi, nelle aree delimitate dedicate al gioco dei bambini. Durante l'appuntamento in Galleria Civica è stata evidenziata la situazione che concerne il registro tumori. Esiste una delibera regionale con delle linee guida, qualcosa come sostiene il dottor Fabrizio, quindi si è mosso. Sì, il registro tumori ormai stiamo partendo, la fase di costruzione della progettazione è finita, da sei mesi abbiamo degli incarichi istituzionali, personalmente come responsabile ASME del registro tumori, il dottor Carrozza come responsabile scientifico, abbiamo delle ottime sponde nella regione, la precedente amministrazione ha fatto la legge dell'amministrazione, ci sta sostenendo, ha trovato dei fondi, se aspetterete vedrete anche alcuni funzionari della regione che potranno dirci qualcosa in questo e siamo nella fase di partenza, abbiamo fatto contatti con l'Airtum, stiamo determinando l'organigramma. Ci sarà una riunione operativa per verificare chi fa cosa, per cui nel giro di due mesi partiamo già con la raccolta dei dati, ma tenete presente che i primi dati scientificamente validi non potranno essere dati prima di tre anni, noi ci teniamo a costruire un registro tumori che abbia validità non solo nazionale ma internazionale, per fare questo abbiamo bisogno di dati confortati dalla scientificità della raccolta ma anche dall'elaborazione dal punto di vista statistico, quindi ci sono degli step da seguire, noi abbiamo fatto le cose in maniera tale da essere a tre anni, massimo quattro anni, certificati. In un Molise dove i decessi per tumori sono sempre più frequenti e la situazione è divenuta insostenibile, il 31 maggio, giornata mondiale senza tabacco, sarà il giorno della riflessione. Traffico nel caos, questa mattina in pieno centro a Termoli per via del rifascimento di una parte del manto stradale, la viabilità è stata chiusa all'incrocio di Corstumberto I con via Fratelli Brigida, tanti disagi agli automobilisti che per la manutenzione si sono trovati a far tardi al lavoro, l'asfalto inoltre è stato applicato solo in una parte della strada. Ed ora gli appuntamenti, domani alle ore 18.30 nell'officina Solare Gallery di Via Marconi si terrà un incontro pubblico promosso dalla Fondazione Milani per discutere della situazione attuale sul tema dell'acqua pubblica. All'incontro sono state invitate anche rappresentanze sindacali e di categoria professionali nella consapevolezza che occorra innanzitutto tutelare il diritto al lavoro degli operatori della Crea e coinvolgere tutti gli aspetti della vita cittadina per la difesa del bene acqua comune. Sabato 1 giugno alle ore 20.30 in piazza Monumento, la Diocesi di Termoli Larino vivrà come da diversi anni la Festa delle Famiglie. L'evento nasce dal desiderio di far riscoprire la festa come tempo libero da dedicare alla relazione e alla condivisione e di favorire quel tessuto di amicizia che sostenga oggi l'impegno delle famiglie. Tutti sono invitate a partecipare, una scaletta di giochi, musiche e canzoni accontenterà tutte le generazioni. Ulteriori informazioni sono sul sito della Diocesi. Bene, questa era l'ultima notizia, vi ricordo che se avete segnalazioni potete contattarci all'indirizzo redazione chiocciola termoli.tv Grazie per la cortesa attenzione, buona giornata.